Ciao ragazzi Grazie di essere qui con me oggi Vi avviso già che si sentirà un pochino di traffico Perché è proprio qui la strada Ma vorrevo troppo fare un video di nuovo con questo sfondo che è meraviglioso Secondo me sta diventando leggermente autunnale Quindi è proprio bellissimo E purtroppo non lo uso spesso perché appunto è proprio di fianco alla strada Ci sono appunto due finestroni giganti che non filtrano bene l'umore Non escludono il rumore dalla stanza Quindi mi dispiace però ci tenevo tanto a farlo con questo sfondo Oggi andrò a rispondere a delle domande Diciamo particolari, non le solite che mi avete fatto Che vi ho chiesto di farmi su Instagram Ho screenshotato quelle che più mi piacevano O quelle che erano più gettonate Diciamo così Quindi andremo a rispondere a quelle Però prima visto che Molte di quelle gettonate In realtà domande classiche Che ho risposto migliaia di volte E vi lascio tutti i riferimenti Per poter poi aver risposto a quelle domande So che molti di voi sono nuovi Quindi ci sta benissimo Allora in descrizione trovate il Q&A più recente In cui dico situazione sentimentale Che lì ci ho fatto Dove abito Come ho scoperto l'SMR Eccetera eccetera Io non so se ho risposto a quella Comunque Tutte le domande invece più generali Inerenti all'SMR e a Youtube Trovano le loro risposte nel mio libro Che è sempre qui già in descrizione E lì vi ho raccontato appunto Dettagliatamente Come ho scoperto l'SMR Perché mi sono appassionata a questo mondo Cosa c'era dietro al mio video Se avevo paura Cosa provavo Perché ho fatto il primo video E poi spiego anche Come funziona la monetizzazione Quali sono le fonti di guadagno Come funziona la realizzazione di un video Quanto ci metto Cioè di tutto l'SMR In tutte le sue sfaccettature Da quello un po' più personale A quella generale Quindi se siete curiosi di queste cose Mi invito a dare un'occhiata al mio libro E comunque vi lascerò giù in descrizione Tutti i video che ho fatto fino ad ora In cui rispondo Un po' a tutte queste domande Un po' più generali E un po' più Sì Le solite che mi fate appunto Più spesso Perché comunque appunto Cresciamo sempre tanto E molte persone Non mi conoscono ancora E giustamente Sono le domande che Niente a fare Più Più in modo spontaneo E anche C'è risposta anche A come ho vissuto Il fatto che I miei genitori scoprissero Che faccio ASMR Cosa i miei genitori pensano Del fatto che questo sia il mio lavoro Cosa i miei amici pensano I conoscenti pensano Tutto ciò che provo Tutto ciò Ricordante me l'SMR L'ho messo lì Quindi Sì Ok Partiamo con le domande E Non vi offendete Sarà una risposta Alla vostra Me ne sono arrivate Tipo 500 600 Almeno Penso Fino ad ora In una notte Più o meno Quindi Non so Non potete rispondere a tutti Sono andato un po' Un po' istinto Partiamo da Quali sono i cibi Che proprio Odio E Sia come piatto completo Che come alimenti base Ci sono due ingredienti Che non supporto Che sono I peperoni Mi fanno Schifo E sono Sempre in mezzo A tutto Gli hamburger vegetali Soprattutto quelli Nei ristoranti È una palla assurda Comunque E gli amaretti Non supportano Quelli Quindi Questi due Direi Poi Se non avessi fatto GDF Per chi non lo sapesse Sono laureata In chimiche Tecnologie farmaceutiche Da un annetto Un annetto Al mezzo Cosa avresti scelto Sempre in quell'ambito Totalmente diverso Quando io ho deciso Che l'università fare Molto presto Circa a metà Della quarta Che sposa Che volevo fare GDF Mi ero un po' fissata Devo dire che Pensavo Mi sarebbe piaciuto Tantissimo Lavorare in laboratorio Camice Profettine Tipo piccola chimica In realtà Il laboratorio Mi ha fatto Totalmente schifo In realtà Forse mi sarebbe piaciuto Forse ostetricia Ostetrica Tipo criminologia Oppure Anche A vederlo da ora Un qualcosa di creativo Per fare magari Per videomaker E cose del genere Perché Mi sarebbe piaciuto Molto Lavorare Nel campo Proprio Anche dietro Le quinte Quindi Sì Però Sono abbastanza contenta La mia scelta Tutto sommato Comunque Sono argomenti Che mi interessano Molto Anna Mi chiede Se avessi la possibilità Di leggere Un libro Che racconta La tua vita Leggeresti La fine Non vorrei Ho Molta poca forza Di volontà Quindi probabilmente La curiosità Mi spingerebbe A leggerlo Per fortuna Che non esista Perché non mi piacerebbe Leggerla Cioè Mi rimane un po' Male Non lo so Non lo so Josy Mi chiede Preferiresti Viaggiare Nel passato O nel futuro Nel passato Decisamente Ma Negli anni 90 Negli anni 80 Massimo 70 Comunque Appunto Non Troppo Tempo fa O proprio Inizio 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 Medioevo All'epoca dei Romani Però direi Proprio Anni 80 Anni 90 Dove Alla fine avevamo Già della tecnologia Però non c'erano Ancora i social Eccetera Sì Secondo me In anni 90 Sono stati gli anni Migliori da vivere Ci sono purtroppo Solo Ho fatto solo l'infanzia In quegli anni Sempre un'altra Giulia Mi chiede Continuerai con l'SMR Dopo il matrimonio E questa domanda Mi viene fatta spesso E io non capisco Cosa c'entri Il mio lavoro Col fatto che mi sposo Io davvero Non lo capisco È una domanda Che mi viene fatta Veramente spesso E vi pergo Nei commenti Spiegatemi Perché Cioè Il perché Di questa domanda Il perché Di questa curiosità Perché dovrei smettere Di fare video ASMR Perché mi sposo Il video proprio Non lo capisco Comunque no Elinin Come mai Dopo tanti anni Di studi Non lavori Nell'ambito Per il quale Ti sei laureata Allora Devo ammettere Che è stata Una scelta Molto Diciamo Facile E naturale Quella di lavorare Poi Per il mio Tra la youtube Perché io Stavo appunto Già lavorando Su youtube Quando mi stavo Lavorando Ho iniziato Al terzo anno Di università Quindi C'è il penultimo E l'ultimo E' un vero proprio Lavoro per me E Però Allora Devo dire Che in laboratorio Non mi è piaciuto Lavorarci E non ci lavorerei Mi piacerebbe Insegnare E sto aspettando Che mi chiamino Quindi in realtà Voglio fare Un lavoro Inerente All'ambito In cui mi sono laureata Anche se non Troppo specifico In realtà Mi è piaciuto molto Anche lavorare In farmacia Purtroppo Oddio Non so se Nelle altre città Ma nella mia città La più grande esigenza Di farmacisti È In un ambito In cui Lavori veramente Tanto Anche nel weekend In orari Anche Molto tardi Quindi finisci Magari alle 8 Tutte in mezzo 9 E per quanto Mi sia piaciuto Davvero fare Questo lavoro Non Non mi piace Lavorare con gli orari Non dirglielo La sapere Sincera Quindi Finché ho Questa fonte Di guadagno Non Non cercherei Quella Poi ovviamente Se ci sarà bisogno Di Di un lavoro E se non avrò Una scelta Con l'insegnamento Con youtube Eccetera Ovviamente Fare questo lavoro Non sono così viziata Però Avendo L'immenso Fortuna Di poter Scegliere Scelgo Questo lavoro O comunque L'insegnamento Nonché L'insegnamento È il lavoro Più creativo Con cui Possa Lavorare Con le materie Che ho studiato Quindi L'ho scelta Principalmente Per questo In realtà Qual è la cultura Non italiana E non già conosciuta Che ti interesserebbe Di più scoprire Medio Oriente Giordania Israele Afghanistan Pakistan E Ho letto Un po' di libri Ambientati In Afghanistan E mi ha affascinato Tantissimo Non so perché La cultura Del Medio Oriente Forse insieme A quella Cinese Mi affascinano Sontissimo Ok Questa è una domanda Sull'SMR Che non ho approfondito Tanto sul libro Anche perché Il libro è stato pubblicato Ho finito di Scriverlo Deci giorni Dopo la mia laurea Era il 14 Aprile 2019 Quindi insomma Le cose sono un po' Cambiate Da allora Pensi che L'SMR Abbia già raggiunto Il suo picco Di popolarità O deve farsi ancora Conoscere tanto Su Youtube Non lo so Diciamo che Su Youtube Non ho idea Probabilmente Sì Perché All'estero Sta ancora Crescendo Quindi probabilmente Anche in Italia Deve ancora Crescere Proprio Su web Però soprattutto Io ho molte Molte speranze Per quanto Per quanto Riguarda L'SMR In progetti esterni Marketing Oppure anche Non dico spa Però esperienze ASMR Dal vivo Penso ci sia Un mondo Davanti a noi E spero Vivamente Di poterne Fare parte Un giorno E Ho anche Diverse cose In mente Quindi Vedremo Se riusciremo Purtroppo Il Covid Ha un po' Ha un po' Rallentato Certe cose Ho dovuto Partecipare A un evento Molto bello Che si è tenuto Lo stesso Però La mia attività Si sarebbe Basata Sul contatto Tra le persone Quindi Non è proprio Il massimo Hai mai pensato Di trasferirti In un altro Paese Se si Dove Allora io Sto bene qui Se mi trasferissi Sarebbe Per seguire Il mio fidanzato Per lavoro Lo so Sarà che avevamo Già la casa qui E Non ci ho mai Pensato Veramente Magari Di fare un'esperienza All'estero Ma proprio Sei mesi Però onestamente No mai Se proprio Mi trasferirò In trentino Ok Marix Mi chiede Se possedessi Una gallina O mucca Consumeresti I loro pototti Con animali Trattati bene Le uova Si Direi di si Non tutte Quelle che fanno Però Si La mucca No Perché il latte Il latte Del vitello La mucca Quando viene separata Al vitello Soffre tantissimo E il latte Per il vitello Quindi Spero veramente Di riuscire A chiudere col formaggio Il prima possibile Ok La tua famiglia O sulle tre cime E penso Avrei il coraggio Di farlo Tutto il resto No Cioè Veramente Mi piacerebbe Tantissimo Le persone Che riescono a farlo Ma io Ho troppa Paura Luca 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 Mi chiede C'è invidia Fra ASMR Artis Italiani Oppure Si riesce A collaborare Tranquillamente Con tutti Questa è una domanda Difficile A corrispondere Allora Diciamo che Non penso Ci sia Invidia Particolare Poi è ovvio Che sicuramente Qualcuno Pensa Ma quel canale Fa schifo Perché ha così Tanti iscritti Che cosa ha Quella In più di me Perché io Faccio lo stesso Tipologio di video E non ottengo Quelle visualizzazioni Sicuramente È un discorso Anche naturale E sicuramente Molte Dicono anche di me Dicono Vabbè Ma quella è libera Vergo Di tanti iscritti Che cosa ha In particolare Io sono Una persona Che fa Un po' Fatica A legare Online Diciamo così Sono felice Che la comunità Sia molto unita Sono felice Di vedere Tantissime Collaborazioni E Però io Veramente Seguo Pochissimi Canali Perché poi Mi affeziono A quelli E magari Mi perdo Anche Persone Con cui potrei Legare Al di fuori Questo un po' Mi dispiace Per Angelerino Non c'è Si dovrebbe Riuscire a Collaborare Bene Fra tutti Semplicemente A volte Devo Devo essere Molto sincera Con voi Mi sento Un po' Esclusa Probabilmente Colpa mia Nel senso Che Io appunto Non Non tendo Troppo A rapportarmi Con le persone Volevo Lasciare Commenti Perché Dico Lasciare Proprio Più Commenti Di quanto Normalmente Lascerei Se magari Devo scrivere Qualcosa O Voglio Scrivere Qualcosa E quindi A volte Un po' Magari Pensano Che io Credo O Me la Tiri Non Saprei Però Sicuramente C'è Anche Un po' Magari Di Alcune Persone Non Timore A Contattarmi Perché Poi Pensano Di Risultare Come Persone Che Vogliono Arrivare A me Solo Per I Iscritti In realtà Io Capisco Benissimo Chi Mi Scrive Perché Davvero Ci De Scrivere E Chi Mi Scrive Solo Per I Iscritti Si Capisce Subito Dalla Ai fratelli O sorelle No Purtroppo Sono figlia unica Mi sarebbe molto piaciuto Lucia Parteciperesti Mai A un reality Se si Quale L'unico A cui parteciperei È Epic Express Perché È fighissimo Obiettivamente Dopo così Tanti anni Che crei E guardi Video ASMR Pensi Che Nel tempo Si è Cambiato C'erano Molti Video Molto più semplici Molti Meno Titoli Cosa che utilizzo Anch'io Per amore Non ce l'ho Quindi Titoli Un po' A chi Appavius O Cosa del genere È cambiato È cambiato Però Devo dire Che non mi dispiace Come Nel senso Che la qualità Si è Molto Molto Alzata Giata Se non mi chiede Cosa ne pensi Della chirurgia plastica Non può fare Quello che vuole Finché Non fate In mano Agli altri Quindi Se lo vuoi fare Valla Anche io A volte Ci ho pensato Però Non ho mai Approfondito Poi la cosa Jessica Mi chiede Quale superpotere Se vorresti avere Volare Avete idea Di che vista Che figata Nicole Mi chiede Credi Negli alieni E la mia domanda È C'è qualcuno Che davvero Ha la presunzione Di dire Che non esistono Dai Impossibile Non dico Più sviluppate Di noi Ma anche Proprio Altri Per dirvi Che aliene Altre Essere Viventi Coscenti No Coscenti Viventi Che camminano Che mangiano Eccetera Sicuramente Sicuramente E l'universo È enorme In espansione Si saremmo Un po' arroganti Pensare di essere Da sui In tutto L'intero universo Preferiresti Saper parlare Tutte le lingue Del mondo Oppure Saper parlare Con gli animali Con gli animali Tutta la vita Tutta la vita Chissà che cosa Direbbero Ma poi C'è di animale No Delle conoscenze Una saggezza Non scherziamo Con gli animali Tutta la vita Alice mi chiede Se potessi Scegliere Di fare un viaggio Qualsiasi Dove andresti Forse Kenya Però Parecchi Di altri Sulla wishlist Ma proprio Parecchi Tra cui Myanmar Giordania Israele Kenya Sudafrica Madagascar Parchi nazionali Degli Stati Uniti Perù Polo Nord E Australia Che dovevamo fare Quest'anno Quindi spero Faremo l'anno prossimo Io spero davvero Che questo video Vi sia piaciuto Questo video Chiacchiericcio Close up Whispering Non ho voluto fare Altri drink Era perché Mi volevo concentrare Sulla Sulla voce Sul whispering E quindi Grazie a tutti quelli Che mi hanno fatto Le domande Grazie a tutti quelli Che mi hanno fatto Le domande A cui Non ho risposto Mi dispiace Magari Se vi piace Questo format Ne faremo Un altro Quindi Io Penso proprio Penso proprio Penso proprio Penso proprio Penso proprio 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 una buona, buona, buona notte buona, buona, buona notte sogni d'oro good night sweet dreams buenas noches buenas noches dulces sueños buon nuit buon nuit buon nuit buona notte i miei pasticcini ai cappè vi mando un bacione immenso peom magari li σπί pree pree nu